Allora amici dello Zemeckis, siamo con Ubaldo Pantani, siamo al Magna Grecia Film Festival e ora abbiamo la possibilità di seguire un po' il flusso della vita e fargli qualche domandina. Ovviamente non saremo per niente seri perché rimaniamo in un campo comico e da lì la prima domanda che mi viene è come è iniziata la tua passione per le imitazioni e se c'è un personaggio che ti diverte tanto poterlo imitare. Allora tutti mi divertono, quasi tutti, perché se decido di farli nessuno ti obbliga a fare qualcosa. Certo, quale però quando ci pensi ci sei anche più affezionato? Mi sono più affezionato è l'apo perché nel frattempo è diventato nel corso degli anni anche un mio amico e quindi lo celebro in qualche modo facendo le imitazioni e è iniziato senza una ragione specifica, nel senso non è che io da piccolo vedevo i programmi televisivi il sabato sera a televisivo e dicevo ah il mio sogno è fare lo showman nel comico, no. C'è qualcosa di assolutamente ancestrale, strano, strano che poi in realtà è comune a molti bambini, quello di imitare. Sì quello di imitare e osservare cosa sta intorno, no? Se prendi per imitazione io mi ritrovavo a fare in camera mia le imitazioni di Gigi Sabani che era un imitatore degli anni 80, io rifacevo le sue perché non lo so, così per passione poi sono stato travolto dal calcio, la passione per il calcio quindi ho accantonato quest'arte per un po' per poi riprenderla negli anni successivi. Una voglia un po' di osservare la realtà insomma. Penso che sia anche un momento di cambiamento per te perché al di là delle maschere, trucco e parrucco dei tuoi personaggi hai voglia di fare uno show tutto tuo? Sì lo sto facendo, sto cercando di metterlo in piedi, ho debuttato con uno spettacolo teatrale in cui racconto la mia storia, di come sia legato al territorio in cui sono cresciuto, qui si parla molto di territorio, questo festival di quanto le radici siano importanti, io racconto il mio percorso che ha delle radici molto profonde e la mia storia, il mio percorso si lega a quello del sale, del salgemma che è il diciamo la materia prima del mio, del luogo in cui sono cresciuto, in Toscana all'interno della Toscana quel lembo di terra dell'alta maremma e c'è la mia storia che si lega alla Solvè. Anche lì si mangia molto bene. Anche lì si mangia molto bene, il sale è un elemento diciamo che non manca, lì serve per l'elaborazione della soda e c'è tutta una storia legata al mio rapporto con questo villaggio operario della Solvè dove sono cresciuto, quindi questo per fare un link con il territorio. Giusto, facciamo anche un po' di promozione corretta. C'è sempre il territorio. C'è sempre, sempre. Volevo chiederti, ma parlando un po' in generale di Padre Patrick, iniziavo il tono un po' più serio, almeno ci ho provato a cambiare un po' la versione, non mi sto confessando, giuro e non ho bisogno di uno psicologo, almeno in questo momento. Tutti abbiamo bisogno di confessarci, in questo momento non dello psicologo, perché so che dobbiamo differenziare due campi differenti, quindi non vorrei appunto essere, insomma girare un po' intorno. Ti volevo chiedere, come è stata questa esperienza con Romantica nel ruolo appunto di Padre Patrick? Mi sono divertito ovviamente, perché comunque chi da bambino non ha sognato tutte le volte che è stato in qualche modo costretto ad andare in chiesa. A ripetere l'atto di dolore, ti dimenticavi una parola, avevi l'ansia da prestazione proprio. Chi non ha mai sognato di essere dall'altra parte. Io, se ci sono due cose in cui mi sono sempre vergognato in vita mia, sono stato una volta a 14 anni, ho fatto una sfilata di moda. Se ci pensi bene, sono insieme a leggere in chiesa i due momenti nella vita di un uomo o di una donna, dove se succede un imprevisto non ti puoi rimettere in careggiata. Cioè tu sei del fronte a Mattarella, ti cade un foglio, una mezza patuta la puoi fare. Però se fai, se sei sulla passerella e cadi, non è che dici vabbè comunque è finita. È finita. In chiesa è lo stesso, le lettere di San Paolo a posto hai paristeco, non ci leggi. E leggere in chiesa è una delle cose che non c'è una via di uscita. Se ci pensi bene, se succede qualcosa non la puoi buttare in cacciara, non ti salvi mai. Non ti salvi mai. È un luogo della formalità per eccellenza. A me è successo da testimone, non so come ho mantenuto la calma, è andato tutto bene con le giuste pause. E ricordiamoci anche che mio cugino non mi aveva detto prima cosa dovevo leggere, quindi avevo tipo le goccioline e qui dico porca miseria. Poi c'è sempre un'ansia assurda. Quando siamo in chiesa, comunque sono già passate due ore e i sandali già ti sbuccichi qua. Il caldo. Il caldo. Non puoi respirare che tutti stanno in silenzio e ti sentono. Però lui che celebra, lui di turno, il sacerdote, loro sanno e un po' se la godono. Assolutamente. E' stato divertente, faticoso, ma piacevolmente faticoso. Assolutamente. Ti va di fare un saluto per i nostri amici dall'A allo Zemeckis, che è un programma di Radio Ciac? Dall'A allo Zemeckis, tutte le lettere ci sono tutte dentro e io vi saluto anche con una P di Pantane per dire, dovresti scegliere o la U di Ubald, che è una più particolare. Bisogna promozionare qualche prodotto? No. No, no, niente. Niente. Nulla. Dalla A alla Z. Dalla A alla Z. Su questa stessa rete, canale, portale. Sì. Account. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo.